ciao ciao buongiorno buongiorno signorine buongiorno oh buongiorno miss nelly come ti va chiede che ci dili bene a te dice che ci dili come ti va andò con signorini bene a te come va se vai su poi giù tornerai e quello che per ti troverai io dico ciao tu dici ciao avrai sempre quel che dai tu come stai bene e tu come ti va bene a te come va fratello coniglietto non puoi far così riprendi fiato siediti qui saltano le pulci e grigli amico mio e se mi gira lo faccio anch'io non so come va a finire se continui così davvero non lo so come vi va bene a me come ti va bene a te come va il tempo è buono la pesca è copiosa perchè non provi a fare qualcosa oh io salto il zizzago e vado qua e cerco di far tutto quel che mi va tu come stai bene e tu come ti va bene a te come va vada fratello a quello che fai un giorno di questi avrai dei guai dargli consigli e fiato sprecato non preoccupatevi sono maggiorenne e vaccinato oh 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 oh